Ho sbagliato qualcosa Va bene Inizio Inferma Proviamo Oh oh Due spadoni Visione dell'insieme Panoramica della mappa Hai già giocato tu? No, la prima volta Come si fa per iniziare? L'hai fatto già il tutorial? Sì, il tutorial sì Ok, allora le basi le sei già Sì, grosso modo sì Poi una cosa che non dice il tutorial Mi sembra che con AX premuti Cioè prima A e poi X velocemente Tiri tipo una spallata Così, guarda Ho sbagliato Con la X? Ecco questa AX Tenendo premuto il coso per mirare Diciamo Ah, quando sei... No, aspetta L'altro? Quello a sinistra Eccolo qui Ci tiri Poi AX Ah Ah beh, ma tu hai La tastiera? Sì Ok, allora devi premere Il tasto Quello per fare la schivata E quello per fare il controattacco Cioè questo qua Qual è il tasto per fare la capriola tipo? Ehm, per fare la capriola io devo Devo premere la barra Ok E per fare invece questo? Cioè lo spezzaguardia Quello Ecco questa Lo scroll del mouse Allora devi premere prima La barra E poi lo scroll del mouse Esatto Ah ok Ma ho scaricato Sì è una spallata Provo a farla adesso Eh non mi hai preso Sì Devi essere vicino Che se cavolo Che se cavolo Non vi fermate Maledetti Non vi fermate Siete all'inferno! Tu giochi col controller? Io sì, col controller Avete visto? È così che si fa! Ti spezzavo! Oh tu, forze! Uff No! Vittoria! Avevamo attaccato insieme Secondo round Secondo round Secondo round Secondo round Secondo round Secondo round madonna non mi sono di peso terzo round terzo di 5 cosa con te non è un duello è un'etemozione calma di dentro l'indietro ti riposerete all'inferno eh vabbè 2 a 1 è ancora da sì ma sa moscia perché sa moscia eh no io vabbè lo faccio con Y sul pad però non so come come lo possa fare eh no ma la faccio ma va bene oh Sgonfitta Voglio la rivincita Fai inizio Conferma No volevo cambiare mappa Ah Cos'è cominciato adesso? Selezione squadra Panoramica della mappa eccolo qui Indietro aspetta Come si cambia la mappa? Non lo so Eh aspetta Non annulla Vabbè dai Cos'è questa squadra? Che cos'è? Credo sia sempre la stessa roba Selezione eroe Conferma Che cavolo fa a cambiare la mappa? E' sempre quella eh Volevo cambiare a menu Menu esce Cos'hai preso? Cos'è quel coso grosso? E' un madonna E' brutto No Dove cavolo sei? Dove cavolo sei? Ai mia Non Devo avanzare La destina solo Ah, io ho fatto un bambino Mi stavi battendo però Non ho fatto intesa difendermi No Guarda lui cosa fa Ma tu perchè c'hai sto coso grosso io no? Come no? Secondo round Eh dai ma perchè non fai la difesa? Che cavolo Eh ma quello è difficile da difendere Via Oh come hai fatto il contrario Bellissimo Sconfitta Devo cambiare tecnica di atta 2 a 0 no eh Non è possibile Terzo round Almeno una Ma hai preso sto coso grosso Oh 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 Calmo Sei buono Un'esecuzione Eh basta Ma tira certe boss queste Ah Ce la stavo per fare Quarto round Colpisci da lontano Quanto stiamo? 2 a 1 C'è Eh mo ho capito come fare Uuuuh Uuuuh calma Uuuuh calma Uuuuh calma 3 a 1 3 a 1 3 a 1 3 a 1 C'è Nessun bottiglia Vediamo aspetta Prova a vedere come Eroi Fammi vedere Recruita Il quarto Il quarto Il quarto Vedi Ah ok F1 Non hai abbastanza acciaio Completa Non lo posso comprare Non ce l'ho No No ma lo puoi usare online Comunque Ma non lo puoi Modificare Ah vedi si Me l'ha dato in effetti Sì Avvia lo sconto Va vedendolo proprio Gli ho provato a cambiare ancora Sì ho cambiato pure io adesso Io lo uso molto quello che hai scelto tu Sì ma prendi sempre quelli più grossi però eh Stavolta hai preso un vichingo con un'arma che non finisce più Primo round Primo round Oh Mamma mia Che volta Oh basta Per un pelo Per un pelo Per un pelo Sconfitta Secondo round Che state facendo? Che state facendo? Ammazzatele quanti più potete Per un pelo Per un pelo Dai! Per un pelo di figa! Sconfitta! Per un pelo! Terzo round! Dato qui dentro! No! Indietreggia! Carciofo maledetto! Resistete e mi riposeremo nell'inferno! Dai! Non posso riuscire ad avvicinarmi! Ma va a cader! Oh, belle quelle ossa attaccate alle mutande! Tre azzè! Devo cambiare! Devo prendere un mutantone pazzo pure io! Per cambiare la mappa... Eh... Cambio opzioni! Fa vedere cosa c'è! Regole bot, opzioni... Selezione mappa, eccolo qua! Ok! Canyon! Moraglia cinese! Cos'è questo? Proviamo questo! Eroi! Ok! Per... Visione d'insieme! No! Cambia colori! Come cavolo? Abbandon... Ottieni equipaggiamento... Vedete... Come combattere... Versione d'insieme... Stato dell'equipaggiamento... Come cazzo si fa? Indietro? Inizio! Vai! Chi ho selezionato? Cattedrale! Ah, trovo a selezionare dopo! Prendo... Prendo pure io il mutantone pazzo! Invece io cambio! Prendo Rack e non so usare! Chi è questo? Una che non so usare! Ah! E voglio liberarla perché è forte! Primo round! Cosa scegli? Già si capisce niente qua! Bellissimo! Che cavolo ho preso! C'è pure il... Madonna! Vedi che... Vedi che il personaggio fa! Secondo round! Dove siamo? Ma forse ho messo... Forse ho messo casuale! Forse ho messo casuale! Basta! Harry! Tipenditi! Adesso lo faccio enorme! Sei solo grosso sei! È-se è poida! Comunque 1 a 1, ancora tutto da giocare Terzo round Ciao Ciao, pure noi stiamo giocando a Porono Sì Porono Eh eh eh, Tommy Eh Facciamo se giochiamo insieme Sì 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 adesso Se volete, cioè sempre se volete Sì sì sì, se va bene anche a te, Andrea, non lo so Vittoria Tommy mi hai fatto vincere? No Minchia, non ce l'ho suonata Eh Potremmo fare noi due contro voi due Eh no Più o meno Ci distruggerete Sì va bene, qual'è il problema? No, appena è iniziato Non venire, ma giudini che mi tiro indietro Guarda tu Adega C'è l'unico Io si invito Quelli di save Entrate Vai E basta Oh Guarda tu, mi ha chiuso nell'angolo Vittoria No Era ora Ho trovato la maniera per battervi Certo che possiamo fare due contro due Qual'è il problema? Vai Beh, entro da loro e ti invito, Andrea Vai vai, Tommy Uh, più valore del mio Cosa? E la stemma Torna al menu principale, conferma In teca del leader mi dice Ehm Provare a invitarmi Ah, allora vedai che ti devo invitare io? No, no Eh, non va Gli altri come, se mi date i nomi vi invito io, qual'è il problema? Allora io sono Ainox, trattino basso, maxi marcio con M maiuscola Tutto attaccato Allora fammi un po' vedere Non ce l'ho, non c'è tra gli amici Mandami Beh, aspetta Ecco è cresciato Boh, se skill invita Invita ma poi io invito lui Sì, adesso dovrei aprire il gioco Ci metto un attimo Ok Cinque secondi che mi vado a prendere un sigaro Ok, fai buono Fai ridi, Tommy Lo sai che se no non fumo non gioco Hai ragione Hai ragione Comunque ragazzi sappiate che sto registrando Anzi, veramente ho sbagliato Dovevamo andare live direttamente su YouTube Anzi, siamo ancora in tempo eh Io fermo la registrazione Andiamo live su YouTube Un attimo di pazienza Come che ti chiami? Ti do di visual Stai da 14